La cittadina sancataldese chiede l'apertura pomeridiana dell'ufficio postale. Al momento, infatti, lo stesso garantirebbe solo l'apertura la mattina, una situazione che genera lamentele nei cittadini, che possono soffrire del servizio soltanto durante le ore mattutine, creando disagi per gli stessi. Gli utenti di San Cataldo, infatti, che necessitano di recarsi allo sportello, si concentrano tutti nelle stesse ore, con difficoltà di parcheggio, creando problemi anche alla viabilità. Una questione di cui si sta occupando l'amministrazione comunale, con l'invio di una nota nei mesi scorsi alla Direzione regionale di Poste Italiana in Sicilia, per chiedere la riapertura pomeridiana. Una richiesta che sarebbe stata avanzata nuovamente anche in questi giorni, come si legge dai social, facendo riferimento non soltanto ad un intervento sull'orario continuato, ma anche ad un incontro urgente. Intanto, dopo aver tentato di contattare telefonicamente Poste Italiana, rimaniamo a disposizione per una replica da parte della Direzione regionale Sicilia.